Con questo sole appena entrato alla primavera non posso che raccontarvi le 5 Vallesina Top 5 News della settimana che è all'aperto con questo bellissimo sole, quindi ne approfittiamo. E guardate che cielo azzurro che c'è dietro di me, quindi non potevo che starmene fuori a leggervi le 5 notizie più importanti della settimana che potreste esservi persi, che sono ovviamente accadute in Vallesina. Partiamo da padre e figlio che in casa avevano una vera e propria fumeria, uno spaccio di stupefacenti, una produzione e spaccio di stupefacenti che coinvolgeva sia il padre sia il figlio. Questo è a Iesi, i carabinieri hanno scoperto questo giro, questo traffico di droga e quindi lo hanno sventato. Le loro attività erano stati scoperti perché c'era un andirivieni davvero importante di giovani del territorio che si andavano a rifornire presso questa fumeria. Seconda notizia, parliamo di un evento tragico che ha coinvolto per fortuna in maniera non mortale un operaio che è stato travolto a Chiaravalle da un'autocisterna mentre stava appunto lavorando, è stato schiacciato e dopo con una gru sono riusciti a sollevare questa cisterna e l'uomo è rimasto gravemente ferito al bacino e alle gambe. Terza notizia, una tragedia della strada purtroppo non c'era fatta la ragazza di 21 anni che con un incidente stradale si era appunto schiantata frontalmente al ritorno a casa durante la notte e questo schianto è stato per lei purtroppo fatale e questa ragazza di filo trano di 21 anni appunto è deceduta dopo questo tragico incidente. Quarta notizia, parliamo di polveri sottili. C'è un vero e proprio censimento che sta facendo il Comune per combattere il problema dell'inquinamento a Iesi, quindi non solo automobili e blocco del traffico ma si cerca di andare a capire quali sono gli altri elementi inquinanti, ovvero soprattutto tutte quelle attività che dispongono di un forno a legna, di un cammino e quindi provocano molte polveri sottili. Quindi c'è un vero e proprio censimento che vuole fare il Comune per vedere quali e quante sono queste attività in caso monitorare le loro emissioni di agenti inquinanti. Quinta notizia, parliamo di vento. C'è stato un vento veramente eccezionale fuori dal Comune, molto molto forte, che ha creato notevoli fastidi ma soprattutto per quanto riguarda la città di Iesi ha in particolar modo stradicato un albero molto grande in via Gramsci che poi è accaduto e è andato ad abbattersi nel giardino sfiorando un'altra abitazione e provocando qualche danno a delle auto quindi questa è stata la più grossa conseguenza a quel vento terrificante che c'è stato nei giorni scorsi. Poi chiudiamo, anche se le notizie erano 5, con una sesta notizia che più che altro è un grido di allarme che lancia lo IOM, l'Istituto Oncologico Marchigiano che è davvero in difficoltà per quanto riguarda l'assistenza alle persone che lo chiedono per la prima volta in tutti i suoi anni di attività è stato costretto a dire di no a quattro richieste di malati di tumore perché con i nuovi tagli e la mancanza di fondi in pratica non ci sono più sufficienti infermieri che possano dare supporto alle famiglie che hanno bisogno quindi speriamo si possa trovare presto una soluzione a questo davvero grande problema. Bene, con questa notizia, in questo caso questa sesta notizia, io vi saluto e mi godo ancora un po' di questo bellissimo sole di primavera. Ciao!